Ciao! Oggi parliamo dell'abbigliamento. Vediamo quali sono i capi d'abbigliamento. La maglietta, il maglione, la felpa, la camicia, la camicetta, la canotta. O la canottiera, i pantaloni lunghi, i pantaloni corti o i pantaloncini, i jeans, il vestito o l'abito, lo smoking, la gonna. La giacca. Il giubbotto. Il cappotto. Il pigiama. La tuta. Le mutande. Il reggiseno. Il costume da bagno. Vediamo ora quali sono gli accessori. Le scarpe. Le scarpe. Le scarpe da ginnastica. Gli stivali. Le scarpe con tacco oppure i tacchi. i sandali. I sandali. Le ciabatte. le pantofole. Le pantofole. I calzini lunghi. I calzini corti. I calzini corti. le mani. La cravatta. La cintura. Il papillon. il cappello, gli occhiali da sole, il berretto e infine l'orologio da polso. È tutto per oggi, grazie, alla prossima lezione, ciao!